Rieccoci qua ad osservare il cielo in questo mese vacanziero che dona ai pazienti amanti del cosmo tante bellezze da ammirare. Oltre al classico sciame delle Perseidi, le lacrime di San Lorenzo, ci attende anche la bella congiunzione tra Giove e Marte, la Luna che glissa Saturno e tante altre prelibatezze. Questo video fa parte del progetto Occhi al Cielo, un e-magazine della UAI, l'Unione Astrofili Italiani, adatto per chi vuole avvicinarsi all'astronomia osservativa. Trovate il link in descrizione. Benvenuti e benvenute cari osservatori e care osservatrici del cielo. Ci eravamo lasciati a fine luglio con un bellissimo quadretto celeste da osservare e fotografare. Quadretto che si ergeva luminoso verso oriente nella costellazione del Thor. Ed è sempre in questa zona di cielo che continueremo a guardare, perché la mattina del primo agosto, tre quarti d'ora prima del sorgere del sole, mentre la Luna si trova ormai dentro l'esagono invernale, possiamo ammirare verso est il pianeta Giove, facile facile da trovare perché è l'astro più brillante di quella zona di cielo. Poco a destra del pianeta più grande del sistema solare c'è la stella che identifica l'occhio del toro zodiacale, Aldebaran, sopra la quale è facile identificare, per via del suo caratteristico colore rosso, il pianeta Marte. Nel frattempo un sempre più piccolo falcetto di Luna si trova nei pressi del confine tra la costellazione del Toro, dell'Auriga e dei Gemelli, non molto lontano dalle corna del bovino zodiacale. Della Auriga vediamo bene la stella di nome Capella, che è una delle stelle più brillanti del nostro emisfero celeste. La troviamo partendo da Marte e muovendoci verso sinistra la troveremo circa alla stessa altezza, a poco più di una spanna di distanza dal pianeta rosso. Ora, scendendo con lo sguardo verso l'orizzonte, sotto l'Auriga vediamo levarsi i due gemelli, con le stelle Castore e Polluce, che portano i nomi dei due personaggi mitologici rappresentati in questa porzione di firmamento. E mentre ricordiamo le prodi avventure dei due gemelli, muovendo lo sguardo a destra, praticamente sotto il toro, iniziamo a scorgere il fulgente Orione. Ricordatevi questo quadretto stellare perché alla fine del video, cioè alla fine del mese, vedremo che cosa sarà cambiato da quelle parti. Ora torniamo al nostro cielo, perché guardando tra sud e sud-ovest, quasi a metà altezza, notiamo un astro abbastanza luminoso. Meno di Giove e Marte, ma più delle stelle di quella porzione di cielo. È Saturno, che oramai da tempo sappiamo vagabondare dentro i confini dell'acquario. E per finire la nostra breve osservazione mattutina, guardando verso occidente, vediamo brillare le costellazioni che formano il triangolo estivo. Costellazioni che, se vi ricordate, mesi scorsi avevamo incontrato in altre posizioni del cielo del mattino. Triangolo estivo, che verso occidente sadagia sotto l'orizzonte all'alzarsi del sole, lo vedremo levarsi verso oriente le sere di agosto, mentre la nostra stella lascia spazio all'oscura notte. Sere d'estate che ci regalano la visione della splendente Arturo, il proseguimento della coda dell'orsa maggiore, mentre si trova nel tragitto discendente del suo percorso celeste e della rosseggiante Antares. Come nei mesi precedenti, purtroppo anche ad agosto, nessun pianeta sarà facile da vedere la sera. Le mattine del 2 e del 3, un sempre più piccolo falcetto di luna trova ospitalità nei gemelli. Vedremo questo delicato lembo di selene vicino all'orizzonte tra est e nord-est, mentre i pianeti e le costellazioni che abbiamo incontrato in precedenza continuano ad ammaliare il nostro sguardo. Domenica 4 agosto cade il 9 lunio, giorno tanto atteso da chi ama osservare il profondo cielo, quel cielo popolato da oggetti lattiginosi e sfuggenti e sogna di ammirarlo per tutta la notte. In realtà anche i giorni vicini alla luna nuova sono buoni per chi, come noi, osserva il firmamento ad occhio nudo. La fase oscura della luna ci dice che nei giorni successivi selene comincerà ad abbellire i nostri tramonti. E infatti martedì 6 agosto un piccolissimo spicchio si intravede molto basso sull'orizzonte. Nei paraggi dovrebbero esserci anche venere e mercurio. Mercurio è difficile da vedere perché tramonta poco dopo il sole, mentre nell'osservazione di venere saranno favorite le città del sud, dove i pianeti appariranno un po' più alti sull'orizzonte rispetto alle città del nord. Questo per dirvi che mentre mercurio in questi giorni, dopo una breve e non stupefacente apparizione serale nel mese di luglio, ci sta salutando per tornare visibile la mattina di fine agosto, Venere, fa già capolino all'orizzonte per restare a lungo con noi. Il problema è che il pianeta che porta il nome della Dea dell'Amore rimarrà basso basso sull'orizzonte occidentale per lungo tempo ancora, diventando così facile da osservare soltanto da ottobre. Il 9 la luna raggiunge l'Apogeo, la massima distanza dalla Terra, a circa 402.000 km. Si troverà nella costellazione zodiacale della Vergine. Guardando con attenzione verso Occidente, mentre le luci del vecchio D lasciano spazio alle stelle, noteremo apparire a sinistra e più in alto della luna, a meno di un pugno a braccio teso, un astro abbastanza luminoso, Spica, la stella che rappresenta la spiga tenuta in mano dalla Vergine. La sera successiva, sabato 10, mentre ci godremo il tremonto, magari da un luogo di vacanza, continueremo ad ammirare l'incontro tra Spica e Selene, ma in posizioni invertite. Stavolta infatti sarà la luna, un pochino più cresciuta, ad essere a sinistra di Spica e più vicina a lei della sera precedente. E mentre ci godiamo questo incontro interessante durante il tremonto, andiamo alla ricerca di un luogo buio per poter ammirare le Perseidi e il 10 agosto. Fermi tutti! Sì, va bene, le stelle cadenti, o meglio, lo sciame meteorico delle Perseidi è popolarmente noto a cadere il 10 agosto, ma non tutto ciò che il popolo dice è sempre corretto. In realtà, il momento migliore per osservare il maggior numero di queste meteore sarà tra l'11 e il 12 agosto. Ma cosa accade in queste sere d'estate? Prima di tutto, le stelle cadenti non sono stelle, ma detriti lasciati da cometa quando nel loro moto di rivoluzione attorno al Sole si avvicinano ad esso. Questi detriti seguono l'orbita della cometa e se quest'orbita interseca quella della Terra, il nostro pianeta cattura i detriti cometari e la nostra atmosfera li riscaldata al punto da bruciarli e creare, per attrito con le molecole dell'alta atmosfera, una scia visibile ad occhio nudo. Percorrendo e prolungando a ritroso le scie luminose lasciate in ciel dalle meteore, scopriremo che sembrano per lo più provenire da una piccola regione di cielo che gli astronomi chiamano radiante. Il radiante delle stelle cadenti del 12 agosto si trova nella costellazione del Perseo ed è per questo che vengono chiamate Perseidi. I momenti migliori per osservare le Perseidi dal nostro paese sono le mattine dell'11 e il 12 agosto, qualche ora prima del sorgere del sole. Verso le 3-4 della mattina la costellazione del Perseo è abbastanza alta in cielo e c'è ancora buio. Mettendosi sdraiati in una zona lontana dalle luci delle città e guardando la maggior parte del cielo possibile senza farsi distrarre dagli smartphone dovremmo riuscire a vederne qualcuna. A quest'ora inoltre la luna non darà fastidio perché proprio il 12 raggiunge il primo quarto e pertanto sarà già trasmontata da qualche ora. Se però non gradite fare le ore piccole potete tentare di osservare qualche stella cadente le sere dell'11 e del 12 cercando sempre un luogo con un cielo buio guardando per almeno una ventina di minuti con attenzione e scrutando la maggior proporzione possibile di cielo. Meglio se dopo le 23 quando il Perseo sarà sorto. Il 13 e il 14 la luna gibbosa crescente sarà nei pressi della stella che identifica il cuore dallo scorpione, calba alla crab, più nota come Antares. Ma mentre il 13 sera Selene si trova non molto lontana dalla stella Fang, una delle tre stelle che disegnano le chele dell'aracnide zodiacale, la sera successiva la vedremo oltre Antares, già dentro i confini della tredicesima costellazione dallo zodiaco, lo Fiuco. Carissimi e carissimi ci siamo distratti un attimo ad osservare la luna e le stelle cadenti e quasi ci perdevamo l'incontro mattutino tra Giove e Marte. Ebbene sì, se continuate a guardare il cielo del mattino nella prima metà del mese, sempre tre quarti d'ora prima del sorgere del sole, vi accorgerete che giorno dopo giorno Marte appare muoversi lesto lesto tra le stelle del toro e avvicinarsi al luminoso Giove. La congiunzione tra Marte e Giove cadrà nel pomeriggio del 14 agosto, ma dal nostro paese potremo ammirarla sia la mattina del 14 che quella del 15. Sarà un incontro davvero interessante perché i due astri ci appariranno a meno di mezzo grado di distanza. Un'occasione unica per vedere i due pianeti contemporaneamente sia al binocolo che al telescopio senza forti ingrandimenti. Per chi osserva il cielo solo a doppio nudo la cosa più importante e bella da fare non è guardare solo l'evento clou, ma osservare i due pianeti nei giorni precedenti e successivi per capirne i movimenti. La sera di lunedì 19 Selene raggiunge la pienezza. La vedremo sorgere tra est e sud est illuminata totalmente dalla luce del sole mentre lui si nasconde sotto l'orizzonte. Questa luna piena agostana sarà più grande del solito, infatti la mattina del 21 raggiungerà il Perigeo, la minima distanza dalla Terra, a 360.200 km da noi. Non sarà ancora una vera e propria superluna, però ci siamo vicini, come quelle che vedremo a settembre-ottobre, ma sarà comunque interessante osservarla in tutto il suo grandioso splendore. Lo spettacolo Chi ci dona la luna continua anche la sera successiva, il 20, quando il nostro satellite naturale, appena diventato oggi posacalante, si troverà nei paraggi di Saturno che, come sappiamo, è già da mesi nella costellazione dell'Acquario. Vedremo sorgere i due astri tra le luci del dimorente. La direzione in cui guardare è circa verso est. Quando la luna si sarà levata in cielo, la vedremo accompagnata dal pianeta con gli anelli sulla sinistra. Se continueremo a osservarli durante la notte, ci accorgeremo che lentamente si avvicinano, fino a quando, verso mattina, la luna conterà, cioè eclisserà, Saturno. L'occultazione sarà visibile, seppur parzialmente, da tutta l'Italia. Inizia intorno alle 5 e mezza, ma l'orario preciso dipende dalla vostra posizione. Dal nostro paese riusciremo per lo più a vedere soltanto l'inizio dell'occultamento. Solo dalla Sardegna si potrà osservare anche la fine dell'occultamento, mentre le luci del nuovo giorno arrivano impietose a dare colore alle nostre città. Per i più esperti non finisce qui, perché la nostra cara luna continuerà a stupirci anche nell'ultima decada di agosto. Il 21, intorno alle 22, Selene occulta Nettuno, che si trova nella costellazione dei pesci. L'evento sarà osservabile solo con un telescopio ed esclusivamente dalla Sicilia. Agosto si conclude in bellezza. Lunedì 26 la luna arriva nel toro, mentre si trova all'ultimo quarto. La vedremo tra le sette sorelle, le Pleiadi. Nel corso della notte, Selene si avvicinerà a questo piccolissimo carretto e verso l'alba, tra sud e sud-est, occulterà le stelle del manico delle Pleiadi, Pleione e Atlante. Per ammirare lo spettacolo è necessario munirsi almeno di un binocolo. Martedì 27 la luna sarà accompagnata da Giove, che vedremo brillare sotto di lei. Tre quarti d'ora prima del sorgere di Eglio saranno belli alti in cielo, seguiti a breve distanza, nel loro moto apparente giornaliero, da Marte, visibile alcuni gradi più in basso a sinistra di Giove. Il giorno successivo toccherà il pianeta rosso essere avvicinato dalla luna calante, quando, prima del sorgere del sole, li vedremo sempre tra est e sud-est, quasi allineati. E così, tramonto dopo tramonto, alba dopo alba, siamo arrivati alla fine del mese, con Selene sempre più piccina, perché al sole si avvicina e che la mattina del 30 nei gemelli incontra Polluce, stella che, oltre ad essere la più luminosa di questa costellazione, è anche uno dei sei luminosi diamanti del bellissimo esagono invernale. Un asterismo che in questo periodo vediamo sorgere nella sua completezza prima dell'alba. Andiamo a conoscerlo meglio. Sopra Polluce, alta in cielo, brilla ancora di più Capella, nell'Auriga, muovendo lo sguardo verso destra e più in basso, nei paraggi del luminoso Giove, c'è Aldebaran nel toro, costellazione sotto la quale surge a Orione, la cui stella più sfavillante è Rigel, visibile in basso a destra della cintura del prode cacciatore. Cintura che, se prolungata, ci permette di arrivare alla stella più luminosa del cielo, Sirio, nel cane maggiore. Ora, quasi a metà strada tra Sirio e Polluce, si staglia luminosa in cielo Procione, nel cane minore. Ecco, questo è il favoloso esagono invernale. Ora, i più attenti di voi avranno anche visto che basso basso all'orizzonte, quasi verso est, fa Capolino Mercurio, come avevo detto all'inizio. Di lui però ne parleremo meglio nel video di settembre, quando sarà più facile da scrutare. Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento mensile, in collaborazione con l'Unione Astrofili Italiana. Io sono Luca, se vuoi sopportare questo progetto di esplorazione delle meraviglie del cielo, metti un bel mi piace, condividilo con gli amici e se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale. E ora, non mi resta che augurarti, come sempre, buonanotte e buone stelle.